Buonasera dalla redazione di Florence TV in studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna per lavori corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e ci sono 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Sempre verso Bologna, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e ci sono 2 km di coda per una perdita di carico al km 268 e 400 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Fisa per traffico intenso code sul bivio A1 a 11 provenendo da Roma e provenendo da Bologna e in A11 tra Firenze Nord e Prato Est. Infibili per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna a 1 km di coda in direzione Firenze. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!